Entra, veloce entra dai, buongiorno, buongiorno, allora mi raccomando a te, se eri di là non ti muovo, pertanto stanno pure le signore che ti guardano, io entro un attimo dal dottore dieci minuti ed esco Come ti chiami? Quanta anni c'hai? A chi sei figlio? Tansatina ce l'hai? E la mamma tua dov'è? E il papà tuo che lavoro fa? Va bene dottore grazie mille, grazie ancora, buonasera E tu com'è che hai tenuto rosso in faccia? Loro mi hanno fatto No fa caldo qua dentro Camina, mena, mannagheri muerti i tuoi bagnoni, mena Si vengo Mannagheri muerti i tuoi bagnoni